Sono sotto il posto. Eh si, il cadreno. Cos'è dopo i nomi dei posti? Sì, c'è un'occhi d'appo. C'è un'occhi d'appo. Sì, c'è un'occhi d'appo. E' buono. Sì, c'è una storia. Per vecchi di me potrei, no? Beh, si. Che storia. Ma che panna. Vabbè, seguiamo. Oh, bastardo. Occio, che mi dica ai movi erraro. Sì. Allora, gii. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.